Un uomo rinchiuso in una cella ragiona in modo diverso da chi sta fuori. Vede le cose in un altro modo. Per evadere da un penitenziario servono tre cose. Conoscere la struttura. Capire le abitudini. E avere un aiuto all'interno e all'esterno. È un fuggitino! Inizia lo spettacolo. Ray Breslin è capace di evadere da qualsiasi prigione progettata da lui. È un modello di penitenziario in cui rinchiudere quei detenuti di cui nessun governo vuole occuparsi. Ma chi finanzia il progetto vuole la certezza che le strutture siano prova di fuga. Il contatto all'interno? Il direttore, Roger Marsh. Quando cominciamo? Subito. Benvenuto nella tua nuova casa. Sono il direttore Hobbs. Hobbs? Dov'è Roger Marsh? Qui non c'è nessun Roger Marsh. Questa è la realtà. È impossibile fuggire. Fatti qualche altro. Ne avrai bisogno. State indietro. Cosa facevi prima di arrivare qui? Vi pagano per evadere. Non sembravi così sveglio. Nemmeno tu. Ti ha pagato per farti finire qui. Vuole che ci resti per sempre. Ray è introvabile. Dov'è finito? Forse è finito in un buco nero. Nome in codice la tomba. Se è vivo è la te. Là dentro dove? Non lo so. Era una trappola. Qualcuno voleva seppellirmi qui. Devi scegliere. Puoi morire qui o puoi fuggire e vendicarti. Voglio scoprire chi è stato e voglio sapere perché. Facciamolo. Devi creare un diversivo. Ok. Picchi come una femminuccia. Adesso ci siamo. Cosa sta facendo? Vuole scappare. Procedura di blocco eseguita. Portiamo i topolini in gabbia. Se non mi fai uscire sei morto. Affare fatto. Tempo scaduto! Dica chi mi ha messo qui dentro e farò sparire questo posto.